Do il benvenuto a Matteo Renzi, leader fondatore di Italia Viva. Buonasera. Bentornato. Buonasera. Senatore Renzi, cominciamo da Di Maio stasera. È stato il suo arcinemico per tanto tempo, poi ci ha fatto un governo assieme. Che effetto le fa ascoltare queste parole, il suo discorso di addio? Ci sono tanti pensieri. Il primo è che non dimentichiamo che Di Maio è il ministro degli esteri. Avrebbe preferito che mollasse la Farnesina e rimanesse il capo politico dei 5 Stelle? Io mai mi permetto di entrare nelle dinamiche interne dei 5 Stelle, per carità di Dio. Dico soltanto che adesso deve fare il ministro degli esteri bene, perché la situazione è molto complicata. Noi viviamo un tempo nel quale il caos della politica estera e della geopolitica è un disastro vero. E pensare che la Libia di Erdogan, dopo aver fatto quel... che la Turchia di Erdogan in Libia vada a fare ciò che sta pensando di fare, controllando i pozzi di petrolio e più in generale la politica estera della Libia, è un elemento che sinceramente mi inquieta. Quindi noi ci dovremmo battere come governo affinché Erdogan uscisse, gli uomini, le truppe, i mercenari, i turchi, uscissero dalla Libia prima possibile? Non solo, ma noi dobbiamo far sì che la Turchia torni a giocare un ruolo serio dentro la Nato, perché quando vanno in Iraq o in Siria, più correttamente nella zona che è il Kurdistan, ad ammazzare le ragazze, le donne che hanno salvato l'onore dell'Occidente combattendo contro Daesh, contro l'ISIS, io trovo assurdo che la comunità internazionale stia zitta. Dunque c'è un tema enorme che è la politica estera. Beh, lei si ricordi che a quell'uomo così pericoloso, da cui lei giustamente oggi mette in guardia, gli abbiamo dato 6 miliardi di euro a Comune Unione Europea, credo con l'accordo anche dell'Italia. Se non mi sbaglio al governo c'era lei, perché si tenesse i migranti in Turchia? La Turchia di Erdogan ha avuto un percorso profondamente diverso nel corso degli anni. All'inizio Erdogan, lei lo ricorderà, era il sindaco di Istanbul e come tale era il profilo riformista della Turchia, stiamo parlando dell'inizio degli anni 2000. Poi ha una involuzione nel suo percorso e accade quello che accade quando vengono arrestati dei giornalisti. Lei ricorderà qual è stato l'unico paese che a quel Consiglio europeo pose la questione della libertà dei giornalisti. Era l'Italia che avevo l'onore di rappresentare. Tuttavia quei soldi gliel'abbiamo dati e forse non abbiamo fatto la cosa giusta, possiamo dirlo? Non lo so, questo è un tema molto complicato perché è molto semplice dire si è sbagliato nel 2015 a fare un accordo. Quell'accordo lo volle Angela Merkel con molta forza perché aveva un problema ai confini tedeschi. Non volevano i migranti sulla rotta balcanica. E a quel punto quell'accordo è un accordo che fu siglato anche con il sostegno dei socialisti europei. Ricorderà che l'allora vicepresidente, anche attuale vicepresidente, Franz Timmermans, fu l'inviato speciale di Juncker. Quindi c'è un tema ben diverso è quello che è accaduto dopo, però Formiglie non confondiamo le mele con le pere. A un certo punto Erdogan, che rappresenta un paese della Nato, perché la Turchia fa parte della Nato, entra con le proprie truppe e procede in alcuni casi al massacro delle donne, si dice donne e uomini in questi casi. Ma io dico soprattutto donne perché erano soprattutto donne le soldatesse kurde. E io ho aperto la Leopolda di quest'anno con un collegamento proprio con una delle comandanti che combatteva per la libertà. A poche persone stanno a cuore quanto a me quelle donne e quegli uomini lì perché le abbiamo raccontate tante volte. Il punto è una delle cose che condividiamo. Allora il punto è per poi tornare alla politica italiana. Se lei vuole un giudizio su Erdogan, Erdogan cambia molto la propria posizione nel corso degli anni. Prodi e Berlusconi ne erano amici, addirittura Berlusconi è stato suo testimone di nozze, o meglio testimone di nozze della figlia, nella prima fase della sua stagione politica. Oggi Erdogan è un elemento di pericolo per l'Unione Europea. E mi faccia finire su questo il punto centrale della Libia. Perché scusi, se noi permettiamo all'Italia di andare in seconda fila, se noi perdiamo la nostra naturale influenza, io non dico solo in Libia. Siamo i più interessati di tutti alla vicenda libica e oggi stiamo perdendo il pallino della situazione perché ci sono i turchi e i russi, lo dico anche per chi ci segue, che oggi stanno decidendo di fatto quello che sarà il futuro e la spartizione della Libia. Speriamo che non venga spartita perché se viene spartita la Libia è un disastro per l'Italia. Voi direte, ma queste cose non sono importanti. Eh no, perché la politica estera è fondamentale. Tutta la questione migratoria nasce dal fatto che la gestione libica nel 2011-2012 è una gestione sbagliata. Ecco, essere seri è l'esatto opposto del populismo che talvolta il 5 Stelle ha avuto. Volevo arrivare qui. Si fermi lì però essere seri sarebbe anche, insisto, non ci va bene Erdogan finché a un certo punto comunque funzionare gli interessi dell'Europa e a un certo punto Erdogan diventa il peggiore dei criminali. Per cui questo è uno schema che è sempre stato utilizzato in Occidente. Anche Saddam prima era amico dell'Occidente e poi è diventato il più grande nemico. Erdogan ci serviva a tenersi i profughi, oggi è il nemico perché ci pesta i piedi. E qui c'è, secondo me, un po' l'ipocrisia dell'Europa di fronte a questi che sono comunque una sorta di dittatori. Adesso però, adesso lei secondo me fa un'esagerazione perché Saddam Hussein era un'altra cosa. Poi sono d'accordo con lei invece su questo punto e cioè che sullo scacchiere della geopolitica, non soltanto l'Unione Europea, pensa gli Stati Uniti d'America, hanno cambiato posizione. Diciamo le cose come stanno, formigli, andiamo nel merito. Gli Stati Uniti da quando hanno trovato lo shale gas, cioè attraverso il fracking, sono autosufficienti dal punto di vista energetico? Che possono abbandonare quelle zone, diciamo, di più ai loro... Perché essere autosufficienti dal punto di vista energetico è una cosa enorme. Si fermi qua, si fermi qua, fracking. No, no, se lo shale gas si deve fermare perché devo dare 60 secondi di pubblicità. Allora, siamo qui con Renzi, senta, però io vorrei ritornare un attimo all'immagine di Di Maio perché anche lei, insomma, tutti hanno fatto tanta ironia su Di Maio, i congiuntivi, le bibite al San Paolo, cioè, insomma, c'è stato un grande accanimento verso Luigi Di Maio. Lei oggi, vedendo un leader politico che comunque si dimette e fa un discorso comunque molto sentito, obiettivamente molto forte, no? Ha cambiato idea o si è fatto un'idea? In sostanza, Luigi Di Maio, secondo lei, è cresciuto come leader politico anche nella sconfitta? La sfido è trovare una sola battuta mia sul Bibitaro. No, dico in generale il suo partito... Perché io sono stato oggetto di critiche e di attacchi. L'ironia di Maio è stata fatta abbondantemente, via. E così come Di Maio non si è mai tirato indietro. Ma adesso stiamo parlando di lui. Andiamo sulla sostanza. Lei ha fatto vedere dei passaggi dell'intervento di Di Maio interessanti. Ce ne sono alcuni forse ancora più interessanti. Le faccio un esempio. Quel passaggio in cui Di Maio parla di Mattarella, a proposito del crescere o se vuole del cambiare, Di Maio ha cambiato totalmente posizione. Possiamo dire che è cresciuto. Perché Di Maio nel 2015, quando noi proponiamo Mattarella, vota contro, lo ricorderà. E addirittura nel 2018, dopo la vittoria del Movimento 5 Stelle, chiede la messa in stato di accusa per alto tradimento. Chi ieri ha ascoltato Di Maio nella complessità del suo discorso, vede che Di Maio considera Mattarella un nome tutelare della Repubblica. Io dico bene così. Ma anche sulla politica estera. Di Maio è quello che mandava Di Battista a fare grandi attacchi ad Obama. Lei ricorderà che Di Battista diceva... C'è anche l'episodio dei gile gialli. La Russia di Stefano. Di Stefano partecipava al congresso del partito di Putin. Il Venezuela, mi faccia dire, ieri Di Maio ha utilizzato parole profondamente filoatlantiche. Allora, se lei mi domanda su questi due punti, ho detto due, potrei fare altri esempi, è cambiato Di Maio? Sì. E qui c'è un grande tema. È facile fare i populisti quando sei all'opposizione. È facile raccontare anche tante fake news, io dico balle, tanta propaganda quando sei all'opposizione, poi vai al governo e la realtà ti si impone per quella che è. Possiamo dire però che a quel punto il Movimento 5 Stelle, a questo punto potrebbe essere un interlocutore di governo per il centro-sinistra in pianta stabile, perché appunto lei ha sempre detto facciamo questo governo perché per l'amor di Dio non deve esserci Salvini al governo con la Meloni, però poi non se ne parli più, deve essere proprio un'eccezione assoluta perché noi non abbiamo niente a che spartire con i 5 Stelle. Lo pensa ancora o forse le cose stanno cambiando? Io penso che le cose... Allora, io lo penso ancora, sì. Punto. Dopodiché le cose cambiano a una velocità. Lei è sicuro che alle prossime elezioni ci sarà ancora il Movimento 5 Stelle? No, me lo dica lei. Lei ha la sensazione... Cioè lei che sensazione ha che i 5 Stelle... Per me sono finiti. Sono finiti? Ma è un dato di fatto. Perché ormai la politica cambia con una velocità e con un ritmo talmente impressionante che si passa dal 4% al 30%, dal 30% al 4% nell'arco di una settimana? No. Lei spera dal 4% di passare al 30%. Io ho fatto andata e ritorno, Formigli, quindi non ho problemi. Per ora ha fatto l'andata. Ma guardi, quando mi trovo un altro che arriva al 40%, me lo porta qui e ne parliamo. Dopodiché... Salvini ci ha dato vicino però, eh? Sì, vicino conta solo a bocce, si dice a Firenze. Il punto centrale è un altro. Il punto è che... Il punto fondamentale per chiudere sui 5 Stelle e per cercare di dare un po' di sostanza a quello che sto dicendo, eh. A mio giudizio il Movimento 5 Stelle è stata una grande, grande, grande speranza per tanti italiani. Perché dava alcune parole d'ordine che poi si è totalmente rimangiato. Lei pensi a cosa dicevano delle banche? Lei pensi a cosa dicevano per restare l'attualità? Agli 80 euro. Sono venuti qui, nel suo studio, a dire che gli 80 euro erano una mancetta elettorale di Renzi. Vabbè, poi si è... No, oggi, 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 il governo firma un decreto, scusi, vota, approva un decreto, che non soltanto conferma dopo sei anni gli 80 euro, ma ne allarga e ne estende la portata. Però... Allora, questo per dire che i 5 Stelle sono... Lei, però, le ha detto che i 5 Stelle sono finiti. Mi dica, nella sua provvisione, gli elettori dei 5 Stelle, che sono stati tantissimi, dove vanno? Vanno da Salvini, vanno al PD, vanno da Renzi, dove vanno? Gli elettori dei 5 Stelle, che hanno fatto vincere nel 2018 i 5 Stelle, sono in parte, lei pensi alla Sicilia, che è un po' il termometro, no? La famosa Sicilia del 61 a 0 per Berlusconi, la Sicilia che nel 2014 vota per me, che nel 2018 vota per Di Maio, sono elettori che non sono più come in passato. Noi forse siamo anche per, ormai per età, mi permetto di dire, affezionati alle vecchie logiche della Prima Repubblica. Quando si spostava lo 0,5% era un cambiamento rivoluzionario. Ricorda Craxi a proposito dell'onda lunga, perché cambiava l'1%. Magari chi qui dentro ha i capelli bianchi, si ricorda che quando il PC o la DC o il PSI perdevano il 2%, era una sconfitta storica. Oggi non è più così. Non viviamo più nel tempo del per sempre. La gente cambia. La vera domanda è, che cosa accadrà nei prossimi anni? Perché noi abbiamo fatto il governo insieme? Non perché non volevamo Salvini. Non solo per quello. Perché Salvini, certo che non volevamo Salvini, non è che si vince il Nobel a saperlo, ma perché Salvini non si limitava ad avere una legittima ambizione, diventare presidente del Consiglio, ma aveva un disegno che per me era pericoloso per l'Italia, perché chiedeva i pieni poteri e nel chiedere i pieni poteri Borghi e Bagnai dicevano usciamo dall'euro. E questo per me era follia. Avete fatto un governo perché sapevate che avrebbe vinto Salvini alle elezioni con la Meloni e non volevate mandare al governo. Dopodiché è un vostro disegno che naturalmente ha creato rischi anche di ingigantire politicamente Salvini, perché è un piano molto pericoloso. Guardi, che Salvini funzioni... Vedremo quello che succede in Emilia, no? No, 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 non mi metta insieme l'Emilia perché l'Emilia deve essere un voto regionale, ma ci arrivo. Sono d'accordo con lei. È del tutto evidente che Salvini all'opposizione funziona molto meglio di Salvini al governo. Salvini, fatelo governare e non ne risolve una. Mettetelo a fare l'opposizione e citofona. Senta... Scusi, 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 perché questo è un passaggio importante. Perché questo è un passaggio importantissimo. Per risolvere il problema dello spaccio, che è un problema serio... Lei si ricorda con quanto ha vinto Salvini le elezioni... No, ma con quanto ha vinto... Quanti voti ha preso la Lega nel 2018? La Lega ha preso meno voti di noi. Ha preso il 17, poco meno il 18. Ha finito il mandato che stava oltre il 30%, quindi governando ha guadagnato consensi. Formigli, governare è una parola grossa nel caso di Salvini. Proviamo a essere operativi. Se tu sei all'opposizione ti puoi permettere il lusso di prendere e di suonare il citofono. Io non so quanti due voi hanno visto quella scena. Una scena ghiacciante. Non giudico nemmeno se sia... Ne parleremo dopo, Massimo. Allora, se ne parliamo dopo, ne parliamo dopo. Ma la sintesi, per chiudere, è che Matteo Salvini esaspera i problemi, non li risolve. Io penso che sia molto facile andare in TV e dire vi risolvo il problema dell'immigrazione bloccando 100 poveri disperati in mezzo al mare. Ma se vuoi risolvere il problema dell'immigrazione devi andare in Europa alle riunioni, chiedere di investire in Africa, fare della cooperazione internazionale. Questa è la differenza tra la politica e il populismo. Renzi, parliamo un attimo politica, non populismo. Voto in Emilia. Che clima sente obiettivamente in Emilia? Secondo lei come andrà a finire? Non faccio giri di parole. Se la partita è per chi deve fare il presidente della regione, come deve essere, stravince Bonaccini. Perché? Tra Bonaccini e Borgonzoni uno ha preso la Emilia, gli ha dimezzato la disoccupazione, ha aumentato il PIL, ha creato posti di lavoro e sa fare il presidente di regione. L'altra ha fatto un sottosegretario ai beni culturali e ce la ricordiamo per aver messo una maglietta in Senato parlateci di Bibiano, che tra l'altro io vorrei dirlo, parlateci di Bibiano. Quel sindaco non doveva andare in carcere e ci hanno fatto una vergognosa strumentalizzazione sopra. Però la questione di Bibiano è una questione vera e delicata. Però la prego, non vorrei aprire la questione di Bibiano ora, vorrei rimanere un attimo. Parliamo di Bibiano. E di fronte, siccome è una questione seria, e siccome la riguarda come riguarda me, come riguarda tutti i genitori, o comunque anche chi non è genitore, perché si parla di violenza ai bambini, vedremo che cosa dirà il processo. Le sembra corretto che un membro del governo, un sottosegretario dei beni culturali, utilizzi una vicenda di violenza sui bambini per attaccare l'altro partito politico? Le sembra giusto questo? Finisca il ragionamento. Se deve vincere, ha detto la competenza, però invece... Se si vota per le regionali, per me vince Bonaccini. Se si trasforma, come Salvini ha cercato di fare, devo dire, con grande capacità, perché a Salvini puoi dirgli tutto, meno che non sia un animale da campagna elettorale. Gli emiliani votano per quello che vedono e quello che hanno vissuto in Emilia. Se gli emiliani dovessero votare in maggioranza per la Borgonzoni, che cosa significa questo? Che si sono dimenticati di come hanno governato in Emilia bene quelli del PD? Oppure che c'è un problema più profondo? Detta così è facile, la seconda che ha detto, ma il problema, mi permetto di dirle, è un pochino più serio della divisione con l'accetta che lei ha fatto. Perché? Perché i cittadini non sono mai scemi. Quindi io contesto la sua lettura, mai. E i cittadini sanno votare alle europee del 2019, cioè di sei mesi fa, quando Salvini ha preso il 33%, 34%, lo stesso giorno in cui Salvini ha preso il 34%, in molti comuni, penso a Bari con Antonio De Caro, a Pesaro con Matteo Ricci, a Bergamo con Giorgio Gori, a Firenze con Dario Nardella, il centro-sinistra ha stravinto le elezioni amministrative, pur avendo lo stesso giorno straperso le elezioni europee. Allora, che cosa significa questo? Significa che la gente sa scegliere. Il problema è, se prevale una lettura del dato regionale, si sceglie Bonaccini, se prevale una lettura del dato nazionale, Salvini contro Sardine, questo è il quadro che ad esempio il capo delle Sardine ha spiegato oggi, io credo che noi rischiamo che il centro-destra possa farcela. Lei ha detto Salvini contro Sardine, non Salvini contro Zingaretti. Salvini contro Sardine, perché oggi su un quotidiano, adesso non ricordo quale quotidiano, c'è un'intervista del capo delle Sardine che dice, la sfida è regionale, Borgonzoni-Bonaccini, la sfida è nazionale, Salvini-Sardine. Non mi interessa adesso attribuire... Avete sbagliato la campagna elettorale? Ma io spero che vinca Bonaccini, perché devo dire che ha sbagliato. E soprattutto, una cosa fondamentale, e il mio è un appello a tutti gli elettori, anche a quelli che vogliono votare, Lucia Borgonzoni, di votare per il presidente della regione, perché lunedì... Governo. Diciamolo subito. Lunedì, chi vince governa. Ma attenzione, attenzione, scusate. C'è un passaggio. Lunedì mattina, non è che il governo Conte va a casa, eh? Scusi, Formigli. Ecco, questo mi interessa molto. Questo è un passaggio molto importante. Quali sono le conseguenze di una eventuale vittoria di Salvini in Emilia Romagna e in Calabria? Ricordiamoci, si vota anche in Calabria. Già il fatto che se ne discuta è il segno che stiamo dando un'importanza nazionale a queste elezioni. Ed è legittimo, perché è una strategia di Salvini. Ma io le dico con molta chiarezza che il giorno dopo, il presidente del Consiglio, a mio avviso, se vuole un Consiglio, poi farà lui quello che crede, il presidente del Consiglio è lui, deve buttarsi a testa bassa. Nel rilanciare l'economia di questo paese e non nell'aprire la crisi, ma nell'aprire questi benedetti cantieri, ne parlavamo anche l'altra volta, che sono bloccati e sono 120 miliardi di euro che fanno spaccare la testa. Quindi scusi, secondo me. me lo faccio a dire questo perché mi fa uscire di testa. Ci sono 120 miliardi di euro fermi lì. Se fossero spesi, al sud, non ci sarebbe bisogno di fare quel reddito di cittadinanza che non funziona oggi. uno col Ferrari e c'è la difficoltà di cittadinanza. Non vada per la tangente. Ascolti me, il problema del disallinamento tra la volontà popolare e la volontà del Parlamento, il voto in Parlamento e la maggioranza parlamentare, è un problema oppure no? Facevo un conto, dal 2018 a oggi dieci regioni sono passate dal centro-sinistra al centro-destra. Questo è un fatto enorme. Secondo lei il Conte, il governo, Zingaretti, non dovrebbero porsi il problema ma questo Parlamento oggi corrisponde a quello che è diventato il Paese? Io penso che se accettiamo l'idea che ci sia la democrazia parlamentare, che si vota una volta ogni cinque anni e che una volta che si vota si lascia al governo la possibilità di governare, cosa che succede in tutto il mondo? Perché Macron diventa presidente e poi lavora per cinque anni. Perché altrimenti cosa fa un presidente? Non si preoccupa di governare. Sta dalla mattina alla sera col telefonino a guardare Instagram e Twitter e a dire oh, sto perdendo lo 0,2 di consenso, devo correre. E si preoccupa, questo è populismo, di rispondere day by day, giorno dopo giorno, ai problemi dell'opinione pubblica e non ai problemi veri delle persone. Allora, la risposta è no. Se c'è un presidente del Consiglio che deve governare, se c'è un governo che deve governare, è evidente che sia cambiato qualcosa. Questo è un dato di fatto. Senta, mi spiega perché lei in Calabria non appoggia un candidato che è Callipo, che è un imprenditore, per bene una persona, diciamo, specchiata, che non ha precedenti, che in Calabria non è un fatto così semplice che i candidati abbiano tutti questa trasparenza alle spalle. C'è chi dice Renzi si deve far notare, Renzi deve stare un po' al governo e un po' all'opposizione e non riesce a essere fino in fondo dalla parte del governo. Un po' ossessionato da me. Ci spieghi perché non appoggia Callipo? Allora, intanto Callipo, se io fossi calabrese, io voterei Callipo. Non sono calabrese, come no. Se io domenica dovessi votare, voterei Callipo. E ora l'appoggio con la sua lista, no? Formidi, si appoggia un candidato come partito se quel candidato vuole l'appoggio. Siccome nelle discussioni che sono state fatte non lo so, io non c'ero nemmeno perché, come dire, è una discussione che non ho fatto io. Si sono parlati, hanno convenuto o non hanno trovato un accordo per candidarsi come lista. Allora, se lei mi dice Bonaccini, non soltanto io appoggio Bonaccini, ma spero che a Bologna Mauro Felicori, capolista della lista Bonaccini, se lo ricorda il direttore dei musei di Caserta, quello che i sindacati volevano cacciare perché lavorava troppo, perché li faceva lavorare a Caserta. Ecco, lui è un candidato di Italia Viva, lui è un candidato che spero che passi. In Calabria non c'è questo tipo di appoggio, dopodiché noi facciamo nelle singole regioni il sostegno, diamo il sostegno a quei candidati che rappresentano le nostre idee. Ecco perché in Puglia abbiamo detto di no Michele Emiliano, ma perché se uno sulla Xilella combina danni come ha fatto Emiliano, se uno sull'ILVA, sul TAP, sulla Banca Popolare di Bari dice il contrario di quello che abbiamo sempre detto, è evidente che su questo non riuscirò mai a sostenerlo. Index Reserce, sondaggi, Lega di Salvini 31,8%, cresciuto 0,3%, Partito Democratico 18,7-0,2%, Movimento 5 Stelle 16,0,2%, cartello successivo, Rapidi, Fratelli d'Italia 10,9%, cresce ancora più 0,4%, Forza Italia al 6,5-0,1%, Italia viva 4,2%, meno 0,2%, vediamo l'ultimo cartello per cortesia, azione di Calende al 2,2%, altri sinistra 2,9%, Verdi 1,9% più Europa 1,7% e Toti, ha fatto una scissione ed è al 4%, ne valeva la pena? Io lo dico dopo le elezioni, io dico che saremo a doppia cifra, però lo faremo... Alle elezioni del 2023, si è arrivata al 2023. Ma non vedo per quale motivo non dovremmo arrivare. Potrebbe cadere prima il governo, dico. Ah, beh, in quel caso arriveremo. Lei è convinto che il governo duri fino al 2023? Io penso che la legislatura durerà. Senta, ha detto una cosa del Rio, non so se siete ancora amici con il Rio, insomma siete stati molto vicini. Divida gli aspetti. L'amicizia rimane, poi politicamente abbiamo il mio diverso. Ha detto una frase che io penso che abbia... Penso che lui facendo questo esempio pensasse a lei. Non è che se Lukaku decide una partita nel dopogara dice la vittoria è tutto merito mio. È un interista del Rio, eh? È un interista, però dice che lei si prende tutti i meriti anche quando non ce li ha. È come uno che rivendica sempre la propria posizione, i propri successi. Sta parlando di Lukaku, almeno Lukaku lo lascia in pace, la prego. Sta parlando di Lukaku. Tra l'altro posso dirlo con una battuta senza senza far arrabbiare il mio amico Graziano del Rio che per me è un fratello maggiore. Da quando ha parlato di Lukaku l'Inter ha smesso di vincere. Quindi Graziano, preoccupatevi di altro e non parla di Inter che è meglio per tutti. Sento una cosa, in caso di elezioni lei con chi va? Con Mara Carfagna e Carlo Calenda a fare una sorta di centro? Perché lì o sta con Zingaretti o va con Salvini non credo sia il caso, oppure magari lavora con pezzi di Forza Italia, con Calenda e cerca di costruire un soggetto di centro. Io a questa politica dell'ego faccio fatica a dare risposta perché a mio giudizio è una cosa un po' diversa. cosa vuol dire oggi il centro e la sinistra? Le faccio un esempio. Quando io sono venuto l'ultima volta eravamo in piena campagna elettorale per il Regno Unito e una parte nel corso delle puntate e anche dei suoi ospiti ma più in generale degli ospiti dei talk show televisivi non soltanto del suo sostenevano che la sinistra inglese guidata da un signore che si chiama Jeremy Corbyn fosse la nuova sinistra. Cosa diceva Corbyn? Era una sinistra radicale. Diceva Blair non ha capito niente. Blair era quello dell'Ebur Party della sinistra che ha governato per dieci anni. Dobbiamo cancellare ciò che ha fatto Blair. Ecco, quella sinistra radicale non ha perso, ha straperso ed è stato il principale assist man per utilizzare una parola calcistica per Boris Johnson e quindi per la Brexit. Oggi la regina ha firmato a me fa una cosa. Non le sto dicendo che se la sinistra è la sinistra estremista radicale di Jeremy Corbyn di Bernie Sanders di Mélenchon in Francia questa sinistra secondo me non ha fuori. Zingaretti come si colloca secondo lei? Io credo che Zingaretti stia cercando di dare un suo disegno al PD lo rispetto non condividendolo se no sarei ancora con lui vedremo che cosa accadrà nelle prossime settimane vedo due scenari il primo è che stringano sempre di più l'accordo tra il Partito Democratico l'EU o comunque diciamo la parte più di sinistra è quello che resterà del Movimento 5 Stelle perché poi non è detto che tutto il Movimento 5 Stelle vada a sinistra in quel caso lo ha detto Zingaretti in un'intervista in un retroscena sul Repubblico forse un'intervista adesso non ricordo in quel caso nascerà una nuova sinistra ecco se quella è la nuova sinistra 5 Stelle l'EU PD noi faremo una cosa diversa che io chiamo riformista dopodiché ce lo vede Calenda e la Carfagna al suo fianco o no? li vede compatibili con le sue idee politiche col suo progetto oppure no? ma il problema non è soltanto Carlo Calenda Mara Carfagna Matteo Renzi o i riformisti del PD il problema è che secondo me c'è un sacco di gente io lo sintetizzo in un 20% della popolazione che non vuole stare con una sinistra radicale se la sinistra diventa radicale ma che sicuramente è argine contro il populismo e il sovranismo questo ne sono assolutamente Riusciamo a essere rapidi? Dazzi Proviamoci Allora una cosa al volo che le voglio chiedere è celebrazioni insomma si è ricordato la morte di Craxi vent'anni della morte di Craxi lei culturalmente si sente più vicino a Craxi o a Berlinguer? Storie molto diverse se io non sono mai stato appartenente alla storia comunista e quindi per questo motivo non ho mai fatto in tempo ad appartenere alla grande tradizione berlingueriana e tuttavia avendo guidato il PD ho visto quanta passione c'è in tanta gente nel ricordare Enrico Berlinguer come campione di etica morale come leader che porta il PC da questa parte dell'oceano dalla parte diciamo della comunità atlantica quindi come un grande personaggio un grande leader non sono mai stato neanche socialista anzi le dirò di più io sono cresciuto con l'idea che i socialisti fossero qualcosa di discutibile un po' perché avevo 17 anni nel 92 ho fatto la maturità nella piena vicenda di Tangentopoli un po' perché anche per estrazione familiare e culturale chi veniva più dalla sinistra cattolica considerava una parte dei socialisti come il male assoluto e invece ho scoperto in Craxi al netto delle vicende giudiziari che sono quelle che conosciamo un leader che quando ha fatto il presidente del consiglio ben diverso da Berlinguer ha impostato una stagione di riformismo che comunque rimane nella storia di questo paese allora la sintesi è si deve scegliere io vengo da una cultura politica diversa democratico cristiana io vengo da un'esperienza in cui per me i riferimenti sono Giorgio Lapira sono se devo pensare ai grandi personaggi del passato da Zaccagnini a pensando ai più recenti a Mino Martinazzoli che mi piacerebbe se li scoprisse detto questo le dico non c'è da scegliere c'è da dire che Craxi è stato una colonna di questo paese avrebbe il coraggio di andare sulla sua tomba? non l'ho fatto per Amamet perché nei giorni del ventennale perché sarebbe stata una indecorosa strumentalizzazione da parte di chi come me non viene da quella cultura l'ha contestata se io mi mettevo a cercare di mettere il cappello su quella cosa lì mi sarei vergognato di me stesso tuttavia io credo che la riscoperta della figura di Craxi ripeto ciascuno tenga le sue opinioni sulla vicenda giudiziaria che è passata in giudicato e che è seria è molto grave sì dopodiché Craxi è l'unico che si alza in piedi in quel Parlamento e dice tutti noi sapevamo che questo sistema era lui dice illecito o illegale quel discorso è il discorso del 3 luglio del 92 di Craxi io l'ho riletto e mi ha fatto venire la pelle d'oca non per quel passaggio lì soltanto perché lì comunque dimostra di avere il coraggio perché stanno tutti zitti in Parlamento non è che si alza uno dicendo no hai torto tutti zitti ma perché fa due passaggi il primo su Maastricht e dice occhio nessuno lo ricorda questa Europa sta diventando un'Europa tecnocratica lo capisce nel 92 il secondo dice se l'Europa non ha un'anima politica diventerà preda di una immigrazione senza controllo poi ve lo faremo vedere perché è un documento molto interessante Craxi aveva capito prima degli altri allora l'avevo chiesto di essere breve non è che mi può fare il gioco della torre no no il gioco della torre no incidenti però se no sono populista anch'io due cose senta mi spiega questa grande ipocrisia sulla Gregoretti si chiede il centro-sinistra chiede che Salvini venga processato vada a processo per la questione a Gregoretti poi però non si presenta a votare per mandarlo a processo in commissione perché non vuole farne un martire come pensa che gli elettori riescono a capire questo tatticismo estremo per cui noi siamo così ma ora non ci conviene farlo il tatticismo è esasperato non solo da parte del centro-sinistra condivido il suo giudizio ma anche da parte della Lega è vero che a Salvini del processo non ne frega niente ma cambia posizione perché deve sfruttare mediaticamente l'onda allora c'è soltanto un punto su cui non sono d'accordo con lei lei dice il centro-sinistra vuole processare Salvini eh no non è il centro-sinistra che vuole processare Salvini vuole mandarlo a processo no sono i magistrati che vogliono mandarlo a processo scusi perché questo è un passaggio importante quello che deve decidere il Parlamento non è un giudizio di merito vuole la mia opinione che probabilmente non verrà condannato perché non ci sono gli estremi questo lo pensano in molti la mia opinione è che quel reato lì per come è configurato è un'esagerazione nei confronti di Salvini cioè io sono contrario al fatto che Salvini abbia tenuto dei poveri disgraziati in mezzo al mare mi sembra una cosa schifosa tuttavia da qui a dirgli diamo 18 anni o 12 anni per seguesto di persona è una cosa che a mio giudizio non sta in cielo o in terra però perché voterò a favore dell'autorizzazione a procedere perché non sono io a dover decidere se lui va a processo o no è la magistratura io devo solo decidere a norma di Costituzione dovevate farlo in commissione per una coerenza con quello che avete sempre detto secondo me io sono dell'idea di votare a favore della richiesta di autorizzazione a procedere rispetto al gioco tattico della commissione è una cosa che lei dice non l'hanno capito gli elettori non l'ha capito nessuno alla fine mi sono parezza anch'io perché era un minuetto pensi di cittadini che però non c'è ombra di dubbio dopodiché però me lo lascia dire su questo la questione migratoria non si risolve con gli spot alla Salvini così come col citofono non risolvi lo spaggio si risolve con un grande investimento senta senatore Renzi l'ultima volta che ci siamo visti qua io gli ho fatto delle domande sulla sua casa il giorno dopo la mia casa il giorno dopo è stata pubblicata su pagine di sostenitori di Italia Viva vabbè tutti sanno come è andata questa questione la chiudiamo qua non ne parliamo più l'unica cosa che le voglio chiedere è visto che lei è molto sensibile alla parola squadrismo no? perché squadrismo è una parola brutta una parola squadrista è una parola brutta chi è secondo lei uno squadrista sui social chi ha pubblicato i dati e l'indirizzo di casa mia sui social è uno squadrista social? io penso che chi ha pubblicato i suoi dati abbia sbagliato ma è uno squadrista o no? no e le dico perché penso che sono d'accordo con lei nel dire che chi viola la privacy commette un grave errore e quindi dal primo giorno io ho subito detto questo poi c'è stata diciamo un'incomprensione tra me e lei che ricordiamo e teniamo ferma qui diciamo i nostri sms non sono stati reciprocamente apprezzati mettiamola così c'è un punto però che non condivido della sua espressione quella di squadrismo lo squadrismo è l'inizio del fascismo allora chi ha sbagliato ha sbagliato e deve essere aiutato a correggersi sono d'accordo e noi dobbiamo fare tutti insieme vigilanza 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 sulle pagine social che sono vicine a voi guardi io penso che noi dobbiamo fare un lavoro pedagogico per cui alla fine bisogna abbassare il livello di odio che c'è sui social tutti su questo sono totalmente d'accordo con lei le parole però sono importanti e lo squadrismo e il fascismo e allora per me il fascismo è stato il male assoluto e su questo grazie a Matteo Renzi grazie a essere stata con lei con noi arrivederci 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 grazie a tutti